Questo è il primo appuntamento perché inizieremo a fare un percorso qui a Vaste per conoscere meglio il nostro territorio, infatti l'Alba Salentina nasce proprio per questo, per conoscere il territorio, i gioielli del nostro territorio e qui a Vaste è pieno diciamo. Il Palazzo Brunale, il museo a piano terra a primo piano e poi anche un caffè, il Vicoli, la bellezza di questa piazza. Tutto è inserito nel SAC, nel sistema ambientale e culturale delle sere salentine che vede protagonisti 16 comuni del territorio e il tutto incrocia anche le città messapiche. Proprio qui in questo Palazzo Brunale l'anno scorso abbiamo firmato la convenzione tra le città messapiche di Lecce, Brindisi e Taranto. Una bella esperienza che siamo sicuri contribuirà ad arricchire il territorio ma soprattutto a collegare queste grandi esperienze di città che vogliono valorizzare i beni ma soprattutto poi renderli fruibili. Proprio qui in questo Palazzo Brunale. Proprio qui in questo Palazzo Brunale. Proprio qui in questo Palazzo Brunale.